In occasione dell'imminente festività natalizie, il piccolo Assemble Music Air torna con la presentazione di un nuovo video creato a distanza per tutti i fan e sostenitori per un augurio speciale di buone feste. Piccolo Assemble Music Air non ha ritenuto opportuno esibirsi in concerti, in streaming, ritenuti poco idoni, ma ha comunque voluto essere presente sui social con un'esibizione rigorosamente a distanza, inedita nel suo genere. Grazie a supporto di amici musicisti, la formazione si propone in questa occasione con il nome di Piccolo Assemble Music Air e Friant, il brano proposto è il classico White Christmas, che ha visto protagonisti due artisti della Capitanata come Ripalta Buffo, noto soprano lirico e Ottavio De Stefano, noto Croner Foggiano. L'unicità dell'esibizione è insita nell'aver unito due artisti appartenenti a generi musicali diversi, ad accompagnare le due voci i maestri Emilio Tricarico alla tromba, Antonio Sciscioli a sax, Daniela Delle Fave al trombone, Elio Spagnoli alle percussioni, Luciano Pannesi al contrabbasso e lei a Lallo al pianoforte, con la speranza, icono di tornare a emozionare il pubblico da vivo.